Bruni, la tripla di Bruni, attacca frontalmente, pasticcia un po' alla fine, scarica ancora su Merlo, la tripla di Merlo, stavolta la mette, scarica su Clespi, la palla va sull'angolo Legnini, la tripla, Legnini ha spazio per la tripla, ancora Legnini, non se lo fa dire due volte Legnini, alla fine rimbalzo di Ingrosso, 3 secondi, da metà campo, quasi va la tripla da metà campo, si va a riposo con le due squadre, con la use e compito Ingrosso avanti per 30 a 28, ci sentiamo fra 15 minuti, Restelli, Villa, Restelli, la tripla di Restelli, 13 secondi per l'attacco con Peter Gloss, tripla di Antonini, finalmente la mette Antonini, attacca frontalmente Legnini, ha spazio Restelli, Vanin, la tripla di Vanin, eccola qui, ancora Restelli, Antonini, Legnini da 3, la tripla, Villa sarà personalmente lui a prendersi la responsabilità di questo tiro, mamma mia, mamma mia che canestro, 10 secondi, la tripla di Vanin, non va, dirà il rimbalzo di Sesoldi, Daniele Sesoldi e mette anche il secondo, il derby è dell'use Computer Gross che batte la All Food Enic Firenze per 6-7, 6-0